C'è stato un periodo della partita che mi sono davvero incazzato perché il gol loro è nato da una cazzata di Chiellini ma prima della cazzata di Chiellini avevamo fatto una cazzata con Pjanic che l'ha passata in mezzo al centrocampo primo tempo e Dani Alves sempre nel primo tempo ha perso palla nella sua corsia e Neto è stato costretto al miracolo Allora, come sapete io parto sempre dalle note negative e a me non è piaciuta la gestione della partita sul 2-0 dopo aver segnato due gol in 8 minuti tu la partita la devi gestire in maniera migliore quindi in maniera diversa Allora, sono contento intanto della partita di Marchisio che io gli darei 6,5-8 in più perché era appunto la prima dopo l'infortunio quindi un bel 7 se lo merita siccome è stato centrocampista migliore ma come ha detto Allegri bisogna stare attenti perché la prima partita può essere anche per quanto riguarda sotto l'esaltazione una partita ottima e poi può anche insomma non essere continuo non mi sono piaciuti Pjanic e Chedira più Pjanic che Chedira anche se ha fatto gol però comunque è un nuovo modulo è una nuova... devono trovare anche una nuova sintonia per quanto riguarda il centrocampo dato che tutti hanno rotto il cazzo con questo nuovo modulo vogliono questo nuovo modulo però per usare questo nuovo modulo bisogna avere tempo e pazienza anche se oggi non mi sono piaciute molte cose la gestione appunto di palla e il centrocampo nel secondo tempo fino al 2-1 quando ha segnato loro il gol non esisteva più dopo il 2-0 siamo spariti a centrocampo vabbè, trascendo questo Quadrato secondo me è il migliore in campo oggi perché ha propiziato praticamente tre gol su quattro ecco insomma è stato molto... molto... sì è stato ottimo ecco ottimo Quadrato e niente per quanto riguarda lì davanti Higuain non ha fatto gol non vedete a differenza magari di quando era Napoli se difficilmente su quattro gol del Napoli non c'era la marcatura di Higuain invece oggi cos'è? com'è che ha giocato Higuain? ha giocato da seconda punta se avete notato e secondo me dovremmo giocare così anche quando c'è Di Bala però Di Bala deve fare il lavoro che fa Higuain cioè tornare indietro, fare la sponda, allargare il gioco non partirmi da 40 metri deve tornare indietro, fare la seconda punta tornare indietro, allargare il gioco per Quadrato Daniel, Alves, Alexandro, chi cazzo c'è insomma e poi andare al cross così è arrivato ad esempio il primo gol così ho visto tante occasioni perché Higuain tornava indietro, faceva la sponda, allargava il gioco e prima punta c'era Manzoukic pronto a ricevere il cross perché se Higuain torna indietro con Di Bala che parte da 40 metri e Higuain fa la sponda e allarga il gioco in mezzo non c'è nessuno intanto per farvi capire quando c'è Di Bala ad esempio perché se Di Bala già lui mi parte 40 metri Higuain torna indietro e fa un ottimo lavoro perché bisogna dirlo, fa davvero un ottimo lavoro però allarga il gioco per il cross che in mezzo ci dovrebbe essere lui ma ovviamente non può clonarsi sono azioni sprecate quindi devi ralentare il gioco devi tornare indietro e quant'altro in cui l'alimento si deve secondo me trovare continuità nella partita perché oggi quando abbiamo pressato alto abbiamo messo in difficoltà Sampdoria se giochiamo così le partite le chiudi già nella prima mezzola tutte le partite contro qualsiasi squadra qui in Italia ti trovi quindi bisogna giocare sempre così sempre così però non per i primi 10-15 minuti perché fatalità succede sempre così che giochiamo i primi 10-15 minuti così non troviamo il gol questa volta abbiamo trovato due gol come quella volta questa solo che ne troviamo 3 in 20 minuti però non è che dopo il secondo gol devi sparire devi gestire la partita la palla però cercando anche il terzo gol sì, sul 2-0 nel primo tempo soprattutto abbiamo sfiorato più volte il 3-0 ma non abbiamo avuto la cattiveria come nei primi due gol poi abbiamo vinto 4-1 doppietta di Chiellini anche se ha fatto un'immensa cagata che poteva tranquillamente risparmiarsi comunque il Napoli ha vinto il Milan ha perso ieri la Roma ha vinto quindi restiamo più due però ripeto ragazzi a me sinceramente delle squadre dietro a me non fa paura nessuna perché la Roma ha dei giocatori veramente è una squadra portata all'attacco ma dietro fa veramente fossi romanista avrei veramente paura quando trovi una squadra solida questo parlerò nel video domani delle nostre avversarie però comunque la Roma sicuramente è andato a giocare a vincere in un campo difficile soprattutto per le grandi squadre quando vanno a Reggio Emilia è sempre difficile vincere nel campo del Sassuolo quindi è stata una vittoria per loro importantissima ma a me la squadra che fa paura e che per me può perdere lo scudetto solo per colpa sua è la Juventus cioè la Juventus deve temere la Juventus se fa le cagate come ha fatto Chiellini Pianix e Dani Alves allora deve temersi se gioca invece come i primi 15 minuti dopo il 3 a 1 dopo il terzo gol che abbiamo fatto non deve temere nessuno anzi questo è quanto ragazzi sono contento della vittoria tre punti importantissimi dopo la sconfitta di Milano adesso concentriamoci su Juventus-Napoli non sarà per niente facile anche se giochiamo in casa non diamo per nulla scontato abbiamo già visto contro i due milanesi e se giochiamo da Juventus la Juventus vince sabato però quello che temo sono le cagate ripeto come abbiamo fatto nel primo tempo la cagata di Chiellini che praticamente ha riaperto la partita un saluto a tutti ragazzi ci vediamo per il video domani del nostro avversario sempre fino alla fine forza Juventus e tre punti importantissimi e comunque ultima parentesi oggi non c'è il tutto esaurito però quando non c'è il tutto esaurito quindi c'è poca gente la curva si sente molto di più molto di più di quando è tutto esaurito quindi io preferisco che non sia il tutto esaurito ma che quelli che vanno in curva sono quelli veramente che vanno sempre in casa trasferte e cantano sempre perché oggi la curva a me è piaciuta davvero l'ho sentita dal primo all'ultimo minuto un saluto a tutti e forza Juventus Juventus